In inglese con I feel you. Noi la ascoltiamo stasera nella versione italiana di Cento, in Mattia Bazar era il 1985, stasera ce la canta Fabiana Francesconi. Suono i contattandi. Grazie. 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 brava Fabiana bravissima grazie ci abbiamo fatto abbiamo finito la gara adesso ci sono quindi grazie Fabiana un applauso ancora quindi grazie